Una pasta da super super studente, non facevo da tantissimo tempo, top, buonissima, tahin, zucchine in friggitrice ad aria, le patate dolci a pasta bianca, yes, buon appetito! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo video ci saranno tantissime ricette, ben 5, di pranzi perché ho filmato tutti i miei pranzi della settimana scorsa, dal lunedì al venerdì. Infatti la mia intenzione è quella di darvi delle idee per pranzi da mangiare a casa. Solitamente ho sempre cercato di dare idee per schiscette, per pranzi on the go, però viviamo in un momento, in una situazione in cui ho pensato che come me tante persone si trovano a casa in smart working. E una cosa che ho notato è che stando a casa la mia voglia, il mio desiderio di variare, di prepararmi cose diverse era decisamente calato. Ho passato settimane a mangiare esattamente sempre le stesse cose perché non avevo tanto incentivo, tanto stimolo di variare. Quindi aver fatto questo video mi ha aiutato tantissimo perché ho variato tanto questa settimana, anche un pochino spinto dal fatto di darvi varietà. Se no, un video di pranzi dove mangio sempre queste cose non sarebbe stato molto interessante. E secondo, stare a casa tutto il giorno è difficilissimo, soprattutto se non si impara a ritmarsi. Nel senso che quando siamo al lavoro, in ufficio, in giro, abbiamo i tempi scandagliati, c'è la pausa pranzo, eccetera. Invece a casa ovviamente non è così, quindi si rischia di mangiare mentre si lavora, di saltare il pasto, di andare lunghi, di pensare solo al cibo perché magari non si sta mangiando, insomma di non riuscire a concentrarsi. E quindi il fatto di fermarmi, farmi la mia pausa pranzo, dedicare del tempo a creare la ricetta, a pensarla, produrla e tutto, mi ha aiutato tantissimo anche su questo fronte. Da un consiglio che mi sento di darvi. Nella vostra giornata ritagliatevi la pausa pranzo, ritagliatevi la pausa merenda, ovviamente la colazione, la cena, insomma ritagliatevi il vostro tempo per mangiare. Detto questo, io vi saluto, vi lascio alla Silvia della settimana scorsa che ha mangiato molto bene, ve lo assicuro. Ne approfitto anche per chiedervi di mettere vi piace al video, se vi piace, così io capisco cosa vi piace. Scrivetemelo anche nei commenti, mi fa sempre piacere e soprattutto iscrivetevi al canale, mi fa ancora più piacere visto che siamo quasi a 100.000. Bene, io vi lascio al resto del video, preparate le pancine, andate a fare la spesa perché si mangia! Ciao ciao! Oggi per pranzo facciamo una super Buddha Ball, super autunnale, tutto super oggi. Tutto super perché ho finalmente trovato anche a Milano le patate dolci a pasta bianca. spettacolari. Da quello che ho capito, dalle mie piccole ricerche che ho fatto, questa è una varietà tipica veneta di Anguillara, provincia di, non lo so, ma è in Veneto. L'avevo già sentita nella mia vita. E sono prodotte lì, quindi in Veneto si trovano sempre, al mercato sempre. In giro per l'Italia non molto. Ho fatto molto fatica a trovarla a Milano, l'anno scorso non le ho assolutamente trovate. Quest'anno le trovate all'Esserunga, ma mi dicono che al Pam ci sono. Forse perché il Pam è Veneto. Comunque, iniziamo con la preparazione delle patate dolci a pasta bianca, che secondo me battono 100 a 0 quelle a pasta rossa, perché sanno di castagna. Dopo averle lavate bene sotto l'acqua, le bucherello con un punteruolo o con una forchetta, le avvolgo nella carta stagnola e le butto in forno. Le lascio cuocere per 20-25 minuti, finché non vado con il punteruolo e riesco ad attraversarle completamente. Quando ciò avviene significa che sono pronte, quindi spengo il forno e le lascio dentro, perché così continuano a cuocere, insomma, più sono cotte meglio è. La patata cruda non è buona. Insieme a questo faccio del tofu fritto, perché finalmente è arrivata la mia nuova baby, che è la mia friggitrice ad aria. Questo è il regalo delle mie amiche per il mio compleanno e l'ho preso tantissimo. Basta tagliare a cubetti il tofu. Io utilizzo questo tofu affumicato di Koro, che è veramente buonissimo. Il tofu affumicato lo trovo sia da Koro, ma l'ho trovato anche all'idol o all'esse lunga ed ha un sapore più particolare rispetto al tofu normale. Lo taglio a cubetti e lo butto in friggitrice. Ogni tanto lo controllo e si vede la differenza tra, qua si vede benissimo, la differenza tra il bianco che è ancora crudo e quello begetto marroncino che è cotto. Che spettacolo, non devo sprecare padelle, nulla, fantastico. Poi faccio degli spaghetti di zucchine che creo utilizzando questo temperino che ho preso all'idol. Era un pacchetto da tre, ce ne sono altri due e serve per fare diversi tagli della zucchina o della carota. E io gli spaghetti di zucchine li salto leggermente in padella, non li mangio crudi, con un pochino di olio, sale, pepe, spezie, insomma, giusto per insaporirli un pochino. Poi questi pomodori che ho fatto cotti ieri e mi sono avanzati in frigo, praticamente sono dei pomodorini ciliegino, tagliati a metà, buttati in padella con del sale, pepe, origano. Anzi no, ieri li ho fatti in forno, con sempre sale, pepe e origano, ma a volte, anche per velocizzare il tutto, faccio semplicemente in padella, butto i pomodorini, metto le spezie, le erbe, gli aromi e faccio cuocere con il coperchio, finché non si sono belli appassiti. Quasi assemblato il tutto, manca le tofu, eccolo, guardate come è diventato. E come, come potremmo terminare questa bowl? Cioè, cosa manca? Tahin! Yes! Voilà! Shooting alla bowl fatto, ho spiegato due ore, ora è strafreddo, ma passiamo all'assaggio, ora il tofu, il tofu rimane duro fuori e morbidino dentro, e poi? La combinazione patata dolce e tahin, sentiamo. Come immaginavo, buonissima, perché la patata dolce è dolce, la tahin è un po' amarognola, quindi il gusto si va proprio a completare. Un'altra top combinazione, tra patata dolce. Buon appetito! Buongiorno, oggi mi sono lasciata ispirare da ciò che stava andando a male nel mio frigo, e quindi mi faccio un piatto di pasta che non facevo da tantissimo tempo, ed è... Allora, vediamo se riconoscete gli ingredienti, si compone di pasta, uovo, bresaola, zucchine e parmigiano. Yes, la mia carbonara fitta. Sto facendo saltare le zucchine, sono quasi pronte, e a parte cuocio la pasta. Quando la pasta è cotta, la scolo, la rimetto dentro la pentola con un pochino di acqua di cottura, e poi butto tutto dentro, ci metto le zucchine, ci metto un uovo che avevo precedentemente sbattuto, e aggiungo alla fine la bresaola tagliata a cubetti. Prima di servire nel piatto, aggiungo anche il parmigiano, lo mescolo a tutto, pizzico di pepe, e... Voilà! La pasta è pronta! Buona quanto me la ricordavo! Buongiorno, con un nuovo pranzo, siamo al day 3, se non sbaglio, Oggi pranzo con una pasta da super super studente, perché faccio pasta al tonno e pomodorini. Pomodorino schiacciato, praticamente avevo dei pomodorini che stavano andando a male in frigo, quindi li ho tutti puliti, e questi purtroppo sono quelli che sono marci immangiabili, e li faccio cuocere in padella con un pochino di sale, olio, pepe, e timo. Mottino, che ho dovuto comprare in seco, perché se no muore. E li lascio cuocere con coperchio. A parte cuocio la pasta. Come pasta faccio questa qui, ha i fagioli verdi di Mung, che è una pasta di legumi, e a me la pasta di legumi fa impazzire, è un gusto super particolare. E poi la scolo, la verso nei sugo di pomodorini, ci aggiungo due scatolette di tonno, filo d'olio per chiudere il piatto, e il pranzo è fatto! Buongiorno, nuovo giorno, nuovo pranzo. Dovete sapere che l'ultima volta che siamo andati al mercato, siamo andati nella parte ittica, e abbiamo comprato una baffa di salmone, il che significa una pancia di salmone, che poi noi abbiamo tagliato, e dalla quale abbiamo ricavato i filetti. Insieme alla baffa, mi sono fatta dare anche la spina dorsale, insomma, lo sceletro del salmone, dalla quale ho ricavato un sacco di ritagli, per poterci fare una pasta. Quindi il giorno per utilizzarli per fare una pasta, oggi è arrivato. Inizio mettendo a marinare i ritagli di salmone, quindi li metto in una ciotola, ci metto un pochino di limone e sale, e li lascio lì, mentre preparo il resto. Aggiungo anche del prezzemolo, perché il prezzemolo sul pesce ci stacca, che è una meraviglia. E nel frattempo il limone incomincia già un po' a cuocerlo. Grattugio le zucchine, e le faccio saltare in padalla con un po' di cipolla. Una volta cotte le zucchine, le metto in un beaker e le frullo, e io per renderle extra cremose ho aggiunto anche dei fiocchi di latte, ma insomma è facoltativo. Ottengo così una cremina, e il piatto è praticamente pronto. Nella padella dove avevo cotto le zucchine, faccio saltare un pochino il salmone, che nel frattempo si è marinato. Lo faccio proprio rosolare 1-2 minuti in padella. E finisco mettendo tutto in un piatto, mescolando tutto, e aggiungendo poi alla fine, per bellezza, altro salmone on top, e fiocchi di latte. E pranzo è servito! Yes up! Ora shooting, no. Mettiamo qui. Ragazzi, tra parentesi, so che non c'entra nulla, ma... è ritornata la stagione. Un pantalone dentro, un cazzino. Yes! Pranzo di oggi, super zero sbatti, perché dopo una settimana di pranzi elaborati e pensati, il pranzo zero sbatti doveva arrivare. E oggi è una giornata così, perché come vedete, è mezzogiorno, sono ancora in biglietto. Ottimo, fantastico. È l'una, non è mezzogiorno. È l'una, e infatti siamo anche un po' di fretta. Quindi, verdure, anzi, zucchine, fatte in friggitrice ad aria, petto di pollo in padella, e c'è in frigo del riso avanzato. Riso avanzato da scaldare. Fantastico pranzo. Mangi riso? Yeah. Anche buono, sai, non è venuto papposo. Cioè, credo in come consistenza. Vuoi iniziare a metterlo dentro? Posso andare? Eh, anche sì. Vai. Lancio dentro. Venti, come sfrigolano di già. Che cosa strana. Quanti scendete posso mettere? Ma che cacchia ne so. Riempilo. Vai, vai. Riempilo. No, no, per ora basta. Guardate come vengono le zucchine in friggitrice ad aria. Cioè, sembrano veramente fritte a suddo. Bisogna un po' imparare a farle, però e poi son buone, cioè, mantengono un sacco il loro sapore, non si risperde e son proprio di zucchina. Salutiamo le zucchine per quest'anno. Ci vediamo quando tornerete di soggione. Ciao, ciao. Ciao, zucchina. Il pranzo è servito. Jimmy nel frattempo è andato via. Scusa, Luna. Posso farci la foto? Ho fatto la cupoletta di riso semplicemente mettendo il riso già cotto dentro una ciotolina e poi rovesciandola. Ho aggiunto anche il pomodorino cotto che avevo ancora in frigo e pollo. Pranzo super basic e zero sbatti. Ogni tanto ci sta. Ciao. 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 Grazie a tutti